Ciao a tutti ragazzi, io sono Fuoco, dietro di me c'è Dada che canta, ciao Dada che canta e oggi stiamo su un gioco particolare, non vi faccio vedere il nome perché lo scoprirete dopo l'intero, bye! Benvenuti in Pokémon Planet, Pokémon ovviamente online dove tu sei un po' che po' che po' che è un mio fratello che corre dietro e dobbiamo prima cosa creare il nostro personaggio Ciao a tutti, ciao! Quindi ho l'ocleone e bella! Ehhh eccoci! E niente! Andiamo avanti! Uhhh vedo l'ora di giocarci! Vediamo se funziona! Yeah! Così! Perfetto! Perfetto! Ovviamente qui ci stanno tutte le inglese! Andiamo a scegliere direttamente il Pokémon perché molto probabilmente... Mamma! Ciao mamma! E senti tu uccione, te levi? Grazie! Uhhh avete sentito LOL? Mmm... In casa! Ciao! Quasi sta amica mia? Ciao scema! Ok! Si va a scegliere il Pokémon! Vediamo un po' eh! E la! Mmm... Ciao! Mi fai scegliere così... Senti scusa tutti i levi delle scatole! Allora vediamo un po' che c'è! Ciao! Ok! Ciao! Eh sì grazie! Sì sono brevissimo! Sono bellissimo! Quindi c'è un Pokémon! Quindi dammi questo Pokémon! Oh! Allora qui! Chamender, Squirtle e Bulbasaur! Ragazzi stiamo nella scelta di lo starter e quindi sceglierò... No! Scegliete voi! Quindi... Ciao! Fatemi sapere nei commenti! Bella!